Il viaggio che faremo stamattina è un viaggio bellissimo per le strade di Roma e non solo. Prima l'avete visto Castel Sant'Angelo, il ponte che dà il benvenuto ai turisti a Roma. Per parlare di questo diamo il buongiorno e il bentrovato a di buon mattino a Don Marcello Stanzione. Buongiorno Don Marcello, angelologo, uno dei massimi esperti di Angeli al mondo. Don Marcello, stamattina con te presentiamo il tuo nuovo libro che è proprio Guida gli Angeli di Roma, itinerari tra l'arte e il sacro. Lo dicevo alle nostre spalle Castel Sant'Angelo e tra poco ci raggiungerà anche la fotografa che ha immortalato queste entità invisibili. Però facciamo un passo indietro, lo dicevamo, ci avviciniamo al Natale e in qualche modo gli angeli ci accompagnano anche verso il Natale. Io ho voluto che questo testo uscisse proprio in questo tempo di avvento perché in avvento c'è una grande presenza angelica. Per esempio c'è l'angelo che annuncia la nascita di Giovanni a Zaccaria e poi siccome Zaccaria non è sicuro, non è convinto di quello che dice l'angelo, l'angelo lo punisce in qualche modo, lo fa stare in silenzio. Quindi per dire che noi in questo tempo di avvento, grazie all'angelo, dovremo chiudere la bocca, ascoltare maggiormente la voce di Dio che poi è anche la voce dell'angelo. Poi c'è l'angelo che va da Maria e le dice rallegrati, si contenta in effetti, no? Perché, come dire, la nostra esperienza spirituale si valuta anche in base alla nostra gioia. Il nostro Dio è un Dio di gioia, di allegria. L'altra domenica era la domenica dell'etare, rallegrati. Spesso noi, come cristiani, non facciamo presa sugli increduli perché abbiamo sempre questa faccia triste, questa faccia appesa, guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Invece l'angelo ci porta alla gioia di Dio. Noi abbiamo detto che faremo un viaggio tra gli angeli di Roma. Roma ha una grande presenza angelica partendo da San Michele Arcangelo, ma sono tantissimi gli angeli che accompagnano i turisti e non solo. Anche perché Roma caput fidei. Sì, Roma ha circa una quarantina di luoghi specificamente angelici. Poi a Roma si trovano angeli dappertutto. Io vorrei dirti questo. Come mai mi è venuta quest'idea di fare questo testo Guida gli angeli di Roma? Alcuni anni fa io ho letto un testo illuminante di un grande intellettuale cattolico, Don Giuseppe De Luca, il quale così scrive, dice così. L'altro giorno ho ricevuto da un mio amico un libro di poesie che si intitola Mare Aperto. Ora, dice Don Giuseppe De Luca, una delle poesie termina su questo verso, gli angeli del cielo di Roma. E questo è il tema della poesia perché si parla appunto di Castel Sant'Angelo. E dice Don Giuseppe De Luca, è uno stupore che gli angeli siano così presenti a noi e noi siamo così assenti agli angeli. Non c'è una chiesa a Roma dove l'arte non abbia tentato di renderli materialmente visibili. Ora in volo, ora in moti nell'adorazione, ora fermi per un solo istante, nei soffitti, sui gornicioni, nelle cappelle, nei quadri, al lato degli altari, a Roma, dove non sono gli angeli, dappertutto, fuorché nella nostra mente cieca. E' sì che ciascuno di noi è il suo angelo, un angelo unicamente per me, tutto e solo per me. E' un tale pensiero, che se io pensassi, darebbe alla mia vita la letizia e la leggerezza e l'assolutezza di una vita angelica. Diventerei un poco angelo anche io e non mi sentirei come pur sono animale terrestre. E conclude, quell'angelo nel cielo di Roma, che domina Castel Sant'Angelo, rallegra questo cielo e nessuno lo guarda mai, nessuno lo ringrazia, che sia lì sempre, da decenni e secoli, a rinfoderare la spada delle divine vendette e non si stanchi. Quando ho letto questo testo sono rimasto folgorato e ho detto, devo scrivere un libro sugli angeli di Roma. Non solamente per un fatto artistico, ma soprattutto per un fatto cattolico, cristiano, per far amare di più gli angeli. Questo è l'obiettivo. E in questo viaggio c'è qualcuno che ti ha accompagnato, in questo obiettivo, con l'obiettivo, perché c'è una fotografa che ha cercato di immortalare queste entità, ovvero gli angeli, che ci raggiungerà dopo la pubblicità. Don Marcello Stanzione, stiamo parlando di angeli. Ci ha raggiunto, con lei che è stata ai nostri occhi, finora, ovvero Angelina Crimi, la fotografa che ha realizzato queste immagini, fotografa per passione, non per professione. Angelina, però, in realtà, noi abbiamo detto, tra l'altro, la copertina del libro di Don Marcello, nasce proprio da una tua fotografia. Ti sei dedicata alle fotografie degli angeli in maniera, diciamo, un po' casuale. Come mai proprio gli angeli? Beh, io mi chiamo Angelina Gabriella, quindi già lì nasce una specie di missione, direi. Sì, la ricerca del mistico, dell'angelo, nel quotidiano, nel mondo che ci circonda, è una cosa che faccio da tanto, così, in maniera molto naturale, molto spontanea. Direi che mi faccia guidare dal mio angelo, e così nascono anche tante foto. Già fotografavo gli angeli e poi con Don Marcello, parlando del suo libro, mi ha detto lui, ma perché non darmi qualche tuo angelo? Ed eccolo qua. È bellissimo il fatto che vi siate passati in qualche modo gli angeli, perché, Don Marcello, lo stavamo dicendo, noi alle volte siamo distratti, eppure gli angeli ci accompagnano sempre. Angelina porta nel nome questo accompagnamento. Ognuno di noi, in realtà, lo porta nella vita quotidiana e talvolta, come dicevi tu prima, siamo distratti a questa presenza. Sì, dobbiamo diventare consapevoli che il nostro migliore amico è l'angelo che ci è stato regalato da Dio. L'angelo ci aiuta innanzitutto a pregare. Per questo, nelle chiese di Roma, gli angeli sono soprattutto in adorazione al Santissimo Sacramento, abbiamo queste bellissime statue di angeli adoranti, l'Eucaristia. Poi l'angelo ci aiuta nel combattimento contro il diavolo, in modo particolare l'Arcangelo San Michele, che è l'angelo guerriero per eccellenza. E Roma è sotto la protezione di San Michele. In modo particolare San Michele è l'angelo custode della Santa Chiesa Cattolica, quindi in modo particolare anche dei papi. E questo ci porta proprio al Ponte degli Angeli, perché ovviamente il ponte ci portava verso il Vaticano un tempo, tutt'oggi diciamo è la via d'accesso da questa parte del Tevere verso il Vaticano. Un ponte fatto di angeli. Angelina, tu ti sei recata, tra l'altro, sul Ponte degli Angeli a diverse ore del giorno e della notte. Ecco infatti gli scatti che stanno scorrendo, proprio perché queste figure immobili, queste figure di pietra, prendevano forma con le diverse luci del giorno e della notte. Esattamente. Mi svegliavo alle 4 del mattino, oppure mi ricordo alcune... La foto della copertina fu fatta dopo una grande tempesta e quindi c'era questo cielo molto dominante, ma più dominante ancora è gli angeli. Sì, diciamo che sono molto legata al Ponte degli Angeli, perché insomma è la massima espressione della loro bellezza, tutte quante raggruppate che venerano e che accostano il nostro Arcangelo Michele. Don Marcello, su questo ponte, sul ponte che collega appunto, passa sul Tevere, c'è una colonna di angeli a destra e a sinistra per poi arrivare al centro dove c'è Castel Sant'Angelo e su San Michele Arcangelo. Questi angeli che ci accompagnano, chi sono quelli che ci accompagnano lungo il ponte? Innanzitutto si inizia non con gli angeli, ma con Pietro e Paolo che sono i protettori della città di Roma. Questi dieci angeli sono della scuola del Bernini. Ti interrompo perché su San Pietro c'è anche un aneddoto particolare. Anche lui ha avuto la presenza di un angelo nella sua vita? Sì, negli Atti degli Apostoli per ben due volte si narra la liberazione dal carcere di San Pietro. La prima volta sono pochissime righe, la seconda volta è una narrazione molto estesa. L'angelo, quando Pietro sta dormendo, gli appare nel dormiveglia. Pietro non è lucido. L'angelo gli dice di seguirlo, Pietro lo segue, la porta del carcere si apre e a un certo punto Pietro si risveglia. È una grande delicatezza d'animo dell'angelo perché Pietro è un emotivo impassionale. Allora gli ha voluto togliere tutta quella situazione di agitazione che certamente San Pietro avrebbe avuto. Quando il pericolo è passato, lui è uscito dal carcere, lui si rende conto appunto che l'angelo l'ha liberato. Quindi vediamo anche lì una grande delicatezza psicologica dell'angelo nei riguardi di San Pietro. Perdonami, non ti volevo interrompere. Andiamo nel viaggio con gli altri angeli verso Castel Sant'Angelo. Io vorrei consigliare di visitare soprattutto Castel Sant'Angelo al tramonto e quando c'è il tramonto si crea un'atmosfera magica nel senso positivo della parola magica. Sono dieci angeli che accompagnano il pellegrino verso San Pietro. Sono angeli che ricordano la via Crucis, la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Appunto c'è l'angelo della cruce, la copertina del libro, poi c'è l'angelo con la scritta Irri, l'angelo con la lancia, con i chiodi, con i dati, con la corona di spine. Qual è il tema teologico? La sofferenza. Attraverso la sofferenza noi ci purifichiamo e ci salviamo. Però attenzione, questi angeli in parte sono tristi, ma in parte sono eratici, per dire che alla fine il trionfo lo otteniamo anche attraverso la sofferenza. Quindi non è una sofferenza fine a se stessa, vittimismo, ma è una sofferenza di croce e di gloria. Tanto è vero che poi c'è la statua di San Michele d'Arcangelo. Noi sappiamo che l'imperatore Costantino ha vinto Massenzio a Saxarubra ed è diventato appunto imperatore grazie a un sogno dove San Michele gli ha passo e gli ha detto con il segno della croce vincerai. Quindi gli angeli stanno bene vicino alla croce e ci aiutano a portare la croce e a essere vittoriosi. Alla fine la spada di San Michele è la croce. Angelina, chiudiamo con te. Abbiamo un minuto prima di chiudere questo spazio, però mi faceva piacere se Don Marcello ha dedicato la sua vita agli angeli e si rende conto della presenza anche per il suo ruolo di sacerdote. Noi comuni mortali di fatto difficilmente vediamo gli angeli. Tu con le tue fotografie ma in generale nella tua vita anche nella ricerca del bello hai cercato di immortalare quella bellezza che gli angeli accompagnano, giusto? Assolutamente sì. Diciamo che bisogna vivere questa presenza con consapevolezza. Tutti noi nasciamo con un angelo e è un dono di Dio. e quando riusciamo a ristaurare un rapporto diretto diventiamo più forti, più sereni, più stabili, più sicuri. È come se ci fosse qualcuno che ci aiuta anche come diceva Don Marcello a tenere quella croce che ognuno di noi... Dostoievski ha detto che la bellezza salverà il mondo. Alla fine Bernini ha fatto gli angeli belli per dire appunto che è la bellezza che viene da Dio. Le persone sensibili come Angelina Gabriella nella bellezza si ritrovano perché così come dire sperimentano una profonda catarsi una profonda beatitudine. Quindi la bellezza dell'angelo ci porta alla bellezza di Dio. Noi vi ringraziamo. Ringraziamo Don Marcello Stanzione lo ricordo ancora guida gli angeli di Roma itinerari tra l'arte e il sacro. Grazie ad Angelina Crimi per essere stata i nostri occhi su questi bellissimi angeli di Roma.